nel 2010 da Maduro, quando era ministro degli esteri del governo Chavez. Forza Italia chiede che il governo riferisca in Parlamento. Fratelli d'Italia propone una commissione di inchiesta. Poco prima della smentita del movimento, il leader di azione Calenda chiede le dimissioni dei 5 Stelle. I 5 Stelle hanno fatto una legge per vietare finanziamenti dall'estero e poi si è scoperto che hanno preso 3 milioni e mezzo da un dittatore sudamericano. In un paese normale si dimetterebbero tutti e chiederebbero scusa.